Io credo un po' come già Agostino nel De Magistro dice che i veri maestri sono quelli che si ritirano, che lasciano il campo agli lievi, al discepolo. Il maestro è proprio quello che si ritira e lascia che il giovane si sviluppi. Ecco, io credo che questa sia un po' la nostra storia, la nostra contraddizione, noi non siamo più la generazione dei grandi maestri. Credo che invece proprio nel nostro lasciare, lasciar fare, lasciar divenire, un aprire un processo storico e non chiuderlo, non rompere nell'epoca, non fare delle cesure e avere questa continuità tra giovani e anziani. Credo che sia un aspetto nuovo del nostro modo di pensare e ci credo abbastanza di questo contemporaneamente essere maestri ma anche venirne meno. Ecco, questa assenza. Siamo nell'epoca della morte di Dio, della fine del saperi, della morte della scienza, eccetera, eccetera. Credo che anche sia l'epoca in cui non bisognerebbe più essere maestri ma lasciare divenire e lavorare insieme ai giovani. Ecco, io credo che anche nella scuola, non ho mai voluto che ho lavorato 50 anni nella scuola tutti pomeriggi e credo che il mio lavoro sia sempre stato quello di lavorare in grossi seminari interdisciplinari su progetti grandi, reali e concreti, lavorando insieme agli studenti e credo che ognuno portava i propri saperi e molte volte a pari merito. Certo, abbiamo un'esperienza dietro alle spalle che ci teniamo molto, ma è soltanto un'esperienza che ogni volta deve essere messa in gioco, ma è diventare legge, diventare credenza.